Ciao a tutti, si farà risentire oppure no? In questo video voglio fare un interattivo dove spiegarti se si farà risentire oppure no. Prima però ti chiedo di iscriverti al canale e di attivare la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. In più puoi abbonarti al canale, abbonandoti al canale potrai partecipare ad apposite live mirate dove ti darò delle risposte precise alle tue domande. E adesso facciamo questo interattivo. Si farà risentire oppure no? Quello che devi fare è scegliere o il colore blu o il colore nero o il colore rosso. Bene, mentre tu scegli i colori io inizio a togliere il rosso e il nero e partiamo dal blu. Allora, si farà risentire oppure no? Allora, diciamo che non ci sono mai le vie generali. Potrebbe farsi risentire ma magari non per i motivi cui auspichi tu. Quindi potrebbe essere un qualcosa del genere. Tra l'altro è una persona doppio giochista, è una persona che non è mai così pulita nei tuoi confronti e quindi si farà vedere in un modo ma in realtà è molto manipolatore. Dobbiamo tenere presente questo. Evita di proiettare perché magari proietti la possibilità che lui si faccia risentire, proietti la possibilità che lui sia una persona interessata a te, ma in realtà non è così. Non gliene frega assolutamente nulla probabilmente di te. E in effetti viene proprio fuori questo perché è un, diciamo, è una persona che ti vuole sfruttare, che vedete che devi stare molto attenta perché ti vuole proprio sfruttare. Quindi se si farà risentire non è sicuramente per amore. Quindi questo devi tenerlo presente. C'è questa possibilità, diciamo, di rinascita, ma devi rinascere, diciamo, senza avere aspettative nei confronti di questa persona. Devi mollarci un po' con la pigrizia e fare un po' qualcosa e evitare di reprimerti e iniziare a sviluppare le tue possibilità, diciamo, al di fuori di questa relazione. Perché fin tanto che sei centrata su questa persona, fin tanto che continui a pensare a questa persona, non ottieni nessun risultato. Purtroppo le cose stanno in questi termini. Dovresti riuscire a fare completamente altro. dedicare a te stessa e alla tua armonia, o te stesso, la tua armonia interiore. Quindi potrebbe farsi risentire, ma non per i motivi, non per amore, ma eventualmente per sfruttarti e per, insomma, non è interessato ad avere una relazione stabile con te. Bene. Per questo video, per questa stesa e tutto, la stesa blu, passiamo alla stesa nera. E passiamo alla stesa nera. Vediamo un po' se si farà risentire. Allora, tutto è possibile. È una persona che può fare veramente di tutto. non è una persona, però, tra le più affidabili, diciamo la verità, non è tra le più affidabili. Probabilmente, diciamo, una persona che ti genera della positività, sicuramente, quindi non è così negativa come tipo di relazione, questo dobbiamo dirlo. C'è la possibilità che si faccia risentire, è una possibilità concreta, non è neanche da sottovalutare. Questo è da dire. Ovviamente dipende un po' poi dalla coscienza, ma devi avere fiducia soprattutto in te stessa, cioè quando si farà risentire, perché in questo caso è probabile che ci sarà un contatto, tu devi fidarti abbastanza di te stessa, più che delle parole che ti dice, più di quello che sembra, insomma. Serve anche coraggio nelle proprie scelte, d'altra parte, only the brave, soltanto i coraggiosi possono ottenere dei risultati e quindi diciamo che forse vale la pena di rischiare, comunque è una persona che si farà risentire e ti porterà anche oltre l'illusione, quindi c'è qualcosa di più concreto che si può manifestare. Ovviamente non devi soggiacere, diciamo, al suo volere, ma devi essere ribelle, quindi sicuramente è una persona che si fa sentire e poi dipende un po' da te, saper gestire la relazione, però ci sono possibilità che ci possa essere anche un qualcosa di positivo che possa manifestarsi in questo caso. Bene, anche per questa seconda stesa nera è tutto, passiamo all'ultima stesa perché ho scelto il colore rosso. Allora, in questo caso è molto interessante l'integrazione, dovresti riuscire ad integrarti con questa persona. Cosa vuol dire integrarsi? Vuol dire creare qualcosa, diciamo, assieme. Rallenta però non avere fretta perché si potrà far risentire sicuramente, ma tu non devi avere fretta di ottenere le cose perché altrimenti se hai fretta, sai che la fretta è cattiva consigliera e non ti porta da nessuna parte. D'altra parte devi curare una tua rinascita, non devi stare in attesa che si faccia risentire perché rimanere in attesa non porta da nessuna parte, è importante invece avere una nuova rinascita e viversi una vita tranquilla. Ma è importante molto liberarsi dalle catene dei condizionamenti, quindi diciamo che la condivisione c'è, quindi sicuramente una persona che si fa risentire in questo caso. Devi però trovare modo di riempire questo vuoto che si può generare, quindi è molto importante che tu possa riempire questo vuoto che si va a creare, questo è fondamentale. È fondamentale se vuoi guarire perché se no risolvi questo problema potrai anche finire per ammalarti. Insomma, bene, per quest'altra stesa è tutto. Se il video ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. Ciao a tutti!